Ciao a tutti oggi prepareremo la torta salata con peperoni e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e venti minuti circa. Ingredienti sono due dosi di pasta al vino o pasta brisee, peperoni rossi, funghi surgelati, ricotta, specchie a listarelle, aglio, prezzemolo, olio, provola affumicata, parmigiano, uova, sale, pepe e noce moscata. Delle due dosi della pasta al vino una la posizioneremo direttamente all'interno di uno stampo per crostate del diametro da 26-28 centimetri rivestita da carta da forno. L'altra la utilizzeremo per la decorazione. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo in una ciotola il trito del parmigiano. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno il prezzemolo, l'aglio e i peperoni. Facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. Con l'aiuto di una spadola riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio e i funghi surgelati. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti. a 100 gradi anti orario velocità 1. Adesso aggiungiamo lo spec. l'uovo la provola affumicata la ricotta il parmigiano il sale il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 3. il composto è pronto trasferiamolo sulla pasta a brisè o sulla pasta al vino. A questo punto completiamo decorandola decorandola con le strisce con l'altra pasta al vino o pasta a brisè. adesso inforniamo a forno preriscaldata a 180 gradi per 35 40 minuti. la torta salata è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta salata con peperoni e funghi. grazie e alla prossima ricetta. e alla prossima ricetta. grazie a tutti